Questa è la chiesa della Santa Croce, famosa perché è il cuore di Chopin che sta depositato dentro la chiesa. La chiesa della Santa Croce Questa è la statua di Niccolò Copernico e quella dietro è la sede dell'Accademia Polacca delle Scienze. E chi era Copernico? Un scienziato. Ecco, la cultura fa parte proprio di questo. Ecco, la cultura fa parte proprio di questo. Grazie. Grazie.